Spettacoli e lotterie per combattere un grande nemico delle donne, il cancro al seno. Torna il tradizionale appuntamento con la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana Lotta ai Lumori. Tutto ottobre sarà dedicato anche dalla sezione provinciale di Bari alla diagnosi precoce attraverso una serie di iniziative presentate nell'ambulatorio della Lilti in via Manzoni dove per tutto il mese le donne potranno effettuare visite senologiche gratuite. Accanto all'attività sanitaria una serie di eventi. Una serata di tango sabato 5 ottobre, un convegno sul tema Donne più forti insieme il 24 ottobre al Palazzo della provincia di Bari e lo spettacolo Donne senza tacchi il 25 ottobre al Teatro Forma. C'è poi un concorso fotografico e la lotteria Vinci la Prevenzione organizzata dall'Associazione di Commercianti di via Manzoni presieduta da Enzo Angarano il cui ricavato sarà impiegato per sostenere l'attività di sensibilizzazione. Anche la città si tinge di rosa. Con la collaborazione dell'assessore ai lavori pubblici Malco Lacarra la fontana di Corso Cavour si illuminerà di rosa per tutto il mese di ottobre mentre gli alberi di via Manzoni sono stati infiocchettati con i nastri della Lilti. È importante prendersi cura di se stesse. Le donne hanno mille ruoli di cura nella loro vita ma poco si prendono cura di se stesse. Vogliamo invitare sostanzialmente le donne a prevenire il cancro al seno che ancora oggi è il big killer, si dice per la donna. Ancora quest'anno 40.000 nuovi casi, adesso nel 90% dei casi si guarisce ma è fondamentale prevenire. Visite gratuite e altre iniziative si svolgeranno nelle sedi della Lilti di Bitonto e Gravina.